Proprio ieri, oggi è il 28 di novembre, lei ha rilasciato alcune dichiarazioni su questo femminicidio, questa vicenda che ha colpito gli italiani di Giulia Cecchettin. Ha detto che secondo lei è un fenomeno significativo perché la sorella di Giulia ha definito il Filippo Turetta un uomo. Perché questa espressione rende significativo questo evento in particolare? E lei ha detto che chi ha ucciso sua sorella non è un mostro ma un uomo. Avesse detto che è un mostro, tutti gli altri si sarebbero sentiti innocenti perché non sono mostri. Dire un uomo significa colpevolizzare tutti gli uomini, cioè andare proprio nel luogo preciso della denuncia che è quello di rendere chiaro a tutti che gli uomini non hanno nessuna relazione con la loro parte femminile, concepiscono la donna come un loro possesso, sono spaventati dell'emancipazione femminile, la storia va avanti sempre e solamente quando si emancipa la donna, perché la donna è la padrona della vita, nel senso che ha il potere assoluto dal re del potere di vita e di morte. E allora quando si muovono le donne e comincia il processo di emancipazione si discono le società. Le donne hanno tendenzialmente tre forme di intelligenza, una simile a quella degli uomini che è quella logico-matematica dove gli uomini sono arroccati, che è anche poi quella che si insegna nelle scuole. La donna poi ha anche un'intelligenza irrazionale, che però è di natura intuitiva, per cui sa doveva finire una certa situazione. E ha anche un'intelligenza sentimentale, perché il sentimento non è solo una cosa che si sente, ma è anche una facoltà cognitiva. Se uno ama un'altra persona, capisce quello che sta dicendo quella persona, molto di più di uno che non la ama. Come una donna utilizza la sua componente intuitiva o sentimentale, per dire le sue cose che deve dire, e l'uomo gli dice tu sei passa. Allora non la uccide, però come la considera, il livello è poi quello. E quindi lei mi sta dicendo che l'uomo può alimentare le proprie intelligenze sentimentali. Ha la sola condizione che entra in rapporto con la sua parte femminile. Ma siccome gli uomini temono la loro parte femminile, hanno paura di non essere considerati abbastanza uomini, allora preferiscono inseguire la dimensione del macellare, no? Invece di quella femminile. Grazie. 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 Grazie.